Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Oggi vediamo insieme cosa succederà ai nostri personaggi di Terra Amara nelle puntate che vedremo nelle prossime settimane. Prima di iniziare, vi ricordo che se volete ricevere altre anticipazioni, iscrivetevi al canale. E se questo video è stato di vostro gradimento e vi va, lasciate un bel mi piace. E ora, iniziamo! Dopo aver sistemato Beice e Mujgan in una delle sue case, Fikili torna nella sua dimora. Qui parla con Fikret che gli confida di essere stanco e di essere desideroso di andare via. Ripete a suo nipote che non deve andare da nessuna parte e che le cose si sistemeranno. I due parlano del chiacchiericcio circolato nei giorni precedenti. Fikret si chiede come possano aver pensato che lui e Mujgan avessero una relazione segreta. Poi però si ricorda di un particolare, e racconta che il giorno in cui Beice venne operata perché aveva ricevuto il famoso sparo, in ospedale lui abbracciò Mujgan che stava piangendo, e un'infermiera che ricorda molto bene vide tutto. È da lì che è partito il gossip, da quell'abbraccio. Fikili e Fikret così vanno in ospedale, e riconoscono l'infermiera che in quel momento stava spettegolando proprio con un'altra infermiera. Sermin e Fuson iniziano una discussione durante la quale l'infermiera confessa che è stata lei a mettere la voce in giro. Chiede perdono a Fikret e poi, piena di vergogna, scappa via. Fekili coglie l'occasione di ricordare a Sermin e Fuson che spettegolare e chiacchierare sul conto degli altri non è mai buona cosa, e ha ragione. Più tardi Beice parla al telefono con Aikut, il medico dell'ospedale, che le racconta quello che è successo. Praticamente Mujgan è stata tradita da una delle infermiere di cui si fidava di più. Ora però tutto è stato chiarito. Fikili ha sistemato ogni cosa. La telefonata termina e Mujgan raggiunge sua zia Beice. La fa sentire in colpa per quello che è successo. E le dice che d'ora in avanti dovrà dirle tutto quello che ha intenzione di fare. La dottoressa si vergogna anche perché ora tutti sanno che ha finto di essere incinta. Si è fatta sera, e alla tenuta Yaman Sevda si rende conto che Zuleyha incontra Yilmaz di nascosto, mentre i due si vedono la cantante prova a coprire Zuleyha dicendo a Demir che è con i bambini, ma purtroppo non ci riesce. Demir infatti si accorge che sua moglie non è in casa, e corre per tutta la tenuta urlando il suo nome, poi si reca alla vecchia casa di Sermin perché vede che ci sono le luci accese. Con un calcio sfonda la porta, ma all'interno vi trova Cetin e Gulten che stavano pulendo, e che gli dicono che non sanno dove si trovi Zuleyha. In realtà la giovane si è appartata con Yilmaz, ma all'esterno. Ben nascosti, i due parlano del gesto di Mujgan, Akaya racconta che stava addirittura per uccidere Fikret, e che stava per succedere il finimondo, poi si passa all'argomento fuga. I due non vedono l'ora di scappare insieme ed iniziare una nuova vita ma Zuleyha è ancora convinta che non possono separare Mujgan da Keremali, una madre non può vivere lontana da un figlio, è un dolore che lei conosce bene. Yilmaz invece non è dello stesso parere, anzi lui ritiene che debba ottenere la custodia totale di suo figlio, e poterlo tenere con sé per poi farlo vivere e crescere insieme a Leila ed Adnan. Poi dice che ha già parlato con il suo avvocato, e che quindi presto divorzierà, si meritano un po' di fortuna, e questa volta pure Demir dovrà farsi da parte. Nel frattempo, proprio Yaman continua a cercare sua moglie, e Sevda gli consiglia di lasciarla libera e non costringerla a fare una vita che non vuole. Ad un tratto Zuleyha rientra nella villa e questa volta dice a suo marito la verità, era con Yilmaz, non riesce più a mentirgli, lei ama Yilmaz, il suo cuore batte solo per lui. Demir non reagisce, come forse tutti si aspettano, anzi, probabilmente anche grazie ai consigli di Sevda, a Zuleyha infatti risponde che la stava cercando perché aveva paura le fosse successo qualcosa di grave, e non per altro. In più sembra accettare le sue parole, ma le dice che lui non smetterà mai di amarla, il suo cuore batterà per lei fino all'ultimo. Poi, ferito, si allontana. Intanto Fecheli ed Yilmaz discutono, Ali Rahmet svela al suo figlioccio che non ha permesso a Mujgan e Beice di raggiungere Istanbul ma che le due si trovano ancora lì a Kukurova. In più, dice che non sta né in cielo e né in terra che una madre venga separata da suo figlio in un modo poi così brutale. È vero che la dottoressa non è mai stata una grande moglie, però perché Remali ha fatto di tutto, da buona mamma qual è. Yilmaz continua a non essere dello stesso parere, dice che divorzierà da Mujgan e che non le permetterà di vedere mai più il loro bambino. Questa è la sua decisione, e non cambierà idea. Ali Rahmet ci rimane male, ma capisce che questa volta non è riuscito a portare la pace che avrebbe voluto portare, poi desolato va a piangere sotto al balcone della sua Unkar, che le manca tantissimo. Nel frattempo, anche Demir è in un mare di lacrime, piange perché ha compreso che ormai ha perso la sua Zuleia, ma piange anche Mujgan, che ripensa al suo bambino che ora non può stringere. Il giorno seguente Fikri esce di casa, ma quando rientra ha con sé un quadro. L'uomo si reca nella sua camera da letto e, incuriositi, Fikret e Yilmaz lo seguono. Lì scoprono che Ali Rahmet ha fatto dipingere un quadro grandissimo, che rappresenta l'immagine della sua Unkar, lo appende nella sua stanza e dice che la sua signora finalmente è con lui, e che ora nessuno li può separare mai più. Rivolgendosi al quadro dice che non vede l'ora che la sua vita termini, così finalmente potrà ricongiungersi con il suo grande amore. Il quadro con l'immagine di Unkar scuote un po' gli animi degli abitanti della casa. Yilmaz e Fikret appaiono commossi dinanzi a questo, ma una delle cameriere confessa a Nazire di essere preoccupata per Fecheli, forse avere l'immagine di Unkar fissa davanti ai suoi occhi lo farà soffrire ancora di più. Nazire però ritiene l'esatto contrario, e sottolinea quanto il suo signore sia un uomo ricco di pazienza, amore, e serenità d'animo. Questo è tutto per le anticipazioni di oggi, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Grazie, a presto!